ma è fatta a me vai a cannazzi sai tu cosa vuoi mai? ingolfa vai a cannazzi vai a cannazzi chi è che sai che non si capisce? se vale a cannazzi andiamo a cannazzi e ti sai ma non ti viene a scuola non ti viene a scuola e salve presidente non mi dà anche senso la vostra fotografia è fatta su lui no che è troppo brutto degnade degnade più quanti che hai detto ma ragazzo che me guarda che a tre mesi più che più di un'ora ma 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 che nemmeno ma aspetta che devo fare la seconda ripresa di youtube ah no no vai vai e poi e poi e certo vai che devo fare questa la seconda la seconda puntata questa è la seconda puntata oh ecco manci appena ecco possono aspettarle Ma voi scherzando? I sacchisti hanno presenso da fuori il testo e il mare Noi siamo benidrati E adesso mi capisco E vede a fuori lì c'era finita una Oggi mamma che lo sapete Da fuori la salta e sotto la salta e sotto la salta